Due arresti, cinque denunce ed infine ben 60 acquirenti identificati. Questo è il bilancio dell'ultima attività di indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Levane, volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I militari sono infatti riusciti a ricostruire e smantellare una fitta rete di compravendita di droga sul territorio valdarnese, arrestando due puscere ed identificando e denunciando altre cinque persone per detenzione e fini di spaccio di stupefacenti. Le indagini avevano preso avvio nel novembre 2017 a seguito di un'altra operazione condotta sempre dai militari levanesi che aveva portato all'arresto di un antiquario e al recupero di tre quadri rubati dal valore ingente. Adesso, dopo lunghi mesi di osservazione e controllo e pedinamento, i carabinieri della stazione di Levane sono riusciti ad identificare 60 acquirenti di cocaina, eroine ed hashish e a quel punto a risalire all'identità dei pusher. Sono così scattate le manette per un cittadino tunisino ed un albanese, ritenuti principali autori dell'attività. Denunciata invece una donna residente in Umbria, un monte varchino e tre nordafricani. Per quest'ultimi sarebbero infatti emersi collegamenti ed attività di collaborazione con gli spacciatori arrestati. Al momento infine risulta ricercata dai militari di Levane una terza persona.